Sarà la squadra che ami, la squadra del cuore IP. Sono già arrivati tanti, tantissimi voti da tutta Italia per il grande referendum squadra del cuore IP. E tu, puoi far vincere la tua squadra. Fai rifornimento alle stazioni di servizio IP e vota. Puoi vincere 300 milioni per la casa più bella che vuoi e tantissimi altri premi. Vota la squadra del cuore, la squadra del cuore IP. Vota la squadra.